ciao a tutti e bentornati sul canale e su questo aggiornamento della price action di bitcoin mi premeva fare questo aggiornamento perché ho notato che in questo momento considerando anche il volume profile fix fisso su determinati range di prezzo notiamo che a candela giornaliera il prezzo di bitcoin sta lateralizzando sembra quindi tenere il range di prezzo intorno ai 30 sopra i 30.000 con un POC un point of control con un cluster attivo di volumi di potenziali acquirenti e venditori posizionato tra i 29.000 e i 38.000 direi quindi che in questa fase di stare molto attenti perché se non dovesse sfondare questi punti di controllo del prezzo guardate c'è a 36.000 un valore di cluster abbastanza ampio e poi a 33.000 un altro valore ampiamente maggiore come distribuzione gaussiana della campana dei prezzi se quindi vogliamo nel breve termine quindi intraday o giornalmente considerare questo range di prezzo che potrebbe essere essere in fase di accumulazione o in fase distributiva cioè potrebbe scendere potrebbe poi esplodere e salire non dobbiamo in questo momento prendere posizioni almeno non sono così finanziari ma sono soltanto delle considerazioni del prezzo perché potrebbe veramente muoversi in modo non solo volatile all'improvviso ma anche in certe direzioni che magari non sono quelle corrette della dalla vostra analisi quindi considerate sempre che questo prezzo si sta muovendo in modo laterale da un po perché potremmo anche guardarlo e visualizzarlo a 15 minuti vedete come in questo momento si sta muovendo all'interno del range tra i 35 mila e i 34 mila e quindi siamo in una fase abbastanza delicata del trend di bitcoin quindi attendiamo un attimo allo sviluppo se riesce a rompere a il rialzo sopra dei limiti di prezzo che potrebbero essere proprio questi qui del dei 30 36 mila o al massimo 38 mila e poi ripartire di nuovo verso to the moon come si suol dire oppure andare deep in profondità e sfondare quindi 32 mila e quindi più in basso andare verso i 23 mila e oltre quindi attenzione al prezzo un'altra informazione che volevo darvi per quanto concerne l'analisi del prezzo è quella che per quanto riguarda il ritracciamento è confermato il ritracciamento di bitcoin che è semplicemente un andamento non ribassista ma soltanto di ritracciamento del prezzo una fase di respiro del prezzo di bitcoin l'analisi naturalmente a lungo termine che potrebbe essere svolta grazie all'ausilio di strumenti come glass node ribadisco che per gli utenti che mi hanno posto alcune domande volevo anche farle presenti che questo grafico è sicuramente interessante perché mostra i valori di intersezione tra i valori liquidi valori liquidi della totale supply del bitcoin e quindi come si muovono il i volumi di bitcoin se bloccati o utilizzati negli indirizzi non è visualizzabile purtroppo nell'account di del glass node come grafica però con un account base avete la possibilità di cercare il liquid il liquid e not liquid supply liquid and liquid supply e vi mostra il grafico che è posto comunque ed è di vostro interesse come vedete potete in modo puntuale cioè considerando naturalmente dei valori posizionandovi sul grafico avete già la visualizzazione del valore dei della forni della supply di bitcoin in valore assoluto però puntuale cioè considerando il giorno di vostro interesse e in fin dei conti a voi interessa quello non mi interessa di come si sta muovendo nel tempo il grafico blu mostra appunto il liquido quello quei bitcoin che non sono utilizzati sono maggiormente bloccati e non gestiti non tradati ecco diciamo così a livello di trading quindi non vengono utilizzati in alcun modo e invece quello liquido che sicuramente molto basso tra liquido e liquido vediamo che siamo intorno forse 4 e 4 milioni di bitcoin la maggior parte quindi non viene assolutamente utilizzata quindi il grafico che vi ho mostrato nel precedente video è un grafico di un articolo all'interno di glass node quindi non potete visualizzarlo a livello grafico dinamicamente ma è solo visualizzato all'interno del grafico per ulteriori approfondimenti ci sono gli account a pagamento e per quanto invece riguarda il capire cercare di capire come si muovono il numero di bitcoin rispetto a quelli liquidi quelli che non vengono assolutamente visualizzati potete fare affidamento sicuramente su questo grafico che mostra chiaramente come il blu è sicuramente maggiore rispetto alla parte rossa o gialla lo vedete comunque che la parte liquida vedete scende al di sotto certi parametri e quando va al di sotto di certi valori vedete in questo momento e invece quelli liquidi i liquidi vanno a superare praticamente certe certi certi volumi allora in questa fase voi capite subito che se il volume dei dei bitcoin liquidi è molto basso allora ci sarà una certa scarsezza e se c'è una certa scarsezza il prezzo di bitcoin si impenna vedete che comunque sta andando anche a diminuire in questa piccola fase la parte liquida dei bitcoin e quindi vediamo che c'è un certo una certa possibilità nel tempo di un cambiamento però fa d'affidamento comunque su un discorso a lungo termine non nel breve termine nel breve termine io già ho avvisato che non è un qualcosa che può essere gestito come operazioni anzi di stare abbastanza lontani dal trading o al più in base alle vostre strategie valutare aperture di posizione o scalping o intraday e quindi cercare di stare molto attenti perché in base alle mie analisi in base alle mie supposizioni essendo il prezzo all'interno di un canale di punti di controllo di cluster di prezzo tra i 36.000 e i 30.000 credo che in questa fase se dovesse ampliarsi incrementarsi enormemente la volatilità potremmo non essere sicuri e certi di qual è la direzionalità del trend anche perché in questa fase non non vediamo alcuna alcun movimento significativo del prezzo anzi sembra abbastanza bassa la volatilità e questa è anche confermata dalla citazione dell'open interest andando su chart e scrivendo open trovate direttamente tutte le indicazioni dei future open interest i valori correnti oppure l'open interest totale oppure suddiviso per per perpetual e quindi valorizzando naturalmente altre funzioni che sono di interesse su account a pagamento ma che per il vostro per vostro utilizzo dovete naturalmente valutare se di vostro interesse attivare un account a pagamento o meno ma già danno delle indicazioni abbastanza veritiere per quanto riguarda i future quindi l'open interest corrente come è distribuito all'interno del paniere dei vari exchange un'altra informazione che potrebbe essere di interesse per quanto riguarda il prezzo di bitcoin potrebbe essere anche quella di abbastanza interessante andare a visualizzare la fase di bitcoin come viene distribuito bitcoin a livello di prezzo ponendo il rapporto e quindi visualizzando su trading view il rapporto tra bitcoin dollaro e il dow jones che naturalmente anch'esso è riferito in in dollari quindi il rapporto tra bitcoin dollaro e dollaro del dow jones vanno aderidersi entrambi perché sono tutte e due a denominatore quindi otteniamo un grafico completamente puro dalla variazione dalla dipendenza del rapporto dal dollaro quindi in questa fase abbiamo lasciando perdere il valore di 1,12 che indica proprio il rapporto tra valori di bitcoin e dow jones come abbiamo una una tendenza del del prezzo simile a quella del prezzo puro di bitcoin che abbiamo attualmente ossia un valore che si attesta graficamente in modo similare al solo bitcoin dollaro abbiamo naturalmente una fase di rsi che si mantiene ancora all'interno della fase non di per comprato e quindi è completamente una fase di attesa mantiene quindi la curva anche di discesa fino a quando c'è stato il ritracciamento e leggera risalita e quindi il rsi e conferma l'andamento del prezzo così come lo stiamo vedendo anche su questo rapporto tra i due tra i due indici alla fine perché si tratta di due indici epurati dal valore matematico della dipendenza dal dollaro per quanto riguarda invece la dx ossia l'average directional index notiamo che l'indicatore mostra una diminuzione della sua forza e quindi quando il valore della dx scende vuol dire che questa attuale trend non è non dico che non è sostenibile ma che non ha forza di mantenersi in questa frangente in questo momento di mantenersi ancora attivo ricordiamo comunque che deve il la dx essere sempre verso l'alto a prescindere dalla curva che vedete cioè se voi vedete anche un andamento molto forte che può essere sia ribassista che rialzista il valore della dx sarà sempre elevato guardate vediamo se riesco a farvi notare l'andamento nel ribasso di della dx vedete come il prezzo in questo frangente del novembre 2018 va soltanto giù e notate che comunque la dx si impenna quindi vuol dire che c'è forza nel segnale del trend ribassista poi naturalmente si mantiene stabile per un certo periodo e poi scende la dx in questa fase perché in pratica non era sostenibile ulteriormente un eventuale discesa quindi la dx è qualcosa che vi indica la forza del segnale del trend e invece vedrete il trend rialzista o ribassista dalla dall'utilizzo dell'rsi ossia il relativi best trend index che vi indicherà se è rialzista quindi ipercomprato quindi se sono tutte e due rivolte verso l'alto vuol dire che il trend ha maggiore segnale direzionale quindi l'rsi vi dà la direzione quindi se invece verso il basso l'rsi vi dà l'indicazione di per venduto quindi di ribasso mentre dovrà essere inverso l'indicazione sempre dell'adx perché se è confermato l'rsi a candela giornaliera l'adx se dovesse scendere all'improvviso quindi va verso il basso l'rsi dovrebbe avere un adx sempre rivolto verso l'alto ribadisco l'rsi vi dà la direzione l'adx vi dà la forza del segnale può essere un aiuto naturalmente per valutazioni relative al prezzo e a eventuali prese di posizione da parte vostra con questo è tutto dell'aggiornamento della del prezzo di bitcoin e della sua attuale movimento un po in range quindi non direzionale per il momento un like naturalmente vi ringrazio se vi è piaciuto e ci aggiorniamo alla prossima grazie